è un thriller il romanzo di questa sera e come sempre con i thriller c'è il problema di non poter raccontare tutta la trama il passato una bestia feroce il titolo e possiamo raccontare questo con massimo polidoro l'autore che dal passato arriva un messaggio arriva una lettera e si apre con questo colpo di scena diciamo il romanzo esatto un giornalista oggi riceve questa lettera che gli ha spedito una sua compagna di infanzia 33 anni prima che era sparita nel nulla una sua michetta delle medie insomma il giorno in cui l'italia vinceva i mondiali di calcio nell'82 però arriva questa lettera che lei gli aveva scritto quel giorno e che per 30 anni non si sa che fine aveva fatto oggi qualcuno gliela recapita e il nostro giornalista decide di fare questo viaggio all'indietro nel tempo di scoprire che cosa è accaduto ma riapre porte che qualcuno avrebbe voluto tenere chiuse per sempre magari e scopre che il passato può essere una bestia molto feroce giornalista di una rivista che si chiama crimen giornalista investigativo come te sei giornalista hai scritto tanti libri sui misteri rivelati e qui invece hai voluto fare un po il processo inverso scrivere un mistero che riveli solo alla fine sì credo sia un'esperienza molto divertente perché dopo aver appunto svelato tanti misteri nel mio lavoro inventarne uno che si scopre solo alla fine che quindi può anche indurre il lettore su false piste pieno di colpi di scena di suspense è stata un'esperienza assolutamente divertente il passato è una bestia feroce il thriller di massimo polidoro pubblicato da pm è un figlio sui rischio